Siamo nel 1950, l'Italia è uscita dalla guerra, da questa guerra durissima e c'è un'attività pubblica straordinaria per il periodo, c'è il piano di ricostruzione chiamato Inacasa, insomma il piano dell'Inacasa di cui vedete questo bellissimo esempio che è il Tuscolano. Dietro questi esempi c'è una concezione della città pubblica, cioè finalmente c'è un pensiero pubblico di assetto della città, di dare un luogo decente a degli abitanti, tenete conto che nel 1951 Roma calcola una presenza nelle baracche, che peraltro sono a due passi da qui all'Acquedotto Felice, di 100.000 famiglie nel 1951.